La grande arte contemporanea questa estate a Cannobio a Palazzo Parasi, dal 24 giugno all'8 di ottobre la mostra di Mimmo Palladino, tra i principali esponenti della transavanguardia italiana. L'artista sarà presente al vernissage, una sua scultura verrà posizionata en plein air sul lungolago in dialogo con la natura circostante. Si tratta dell'imponente cavallo lo scorso anno ad Alberobello. L'esposizione con la collaborazione della Galleria Mazzoli di Modena sarà curata da Lorenzo Madaro. La stagione espositiva estiva di Palazzo Parasi si apre però con un altro importante evento, la personale del maestro Trento Longaretti, un'antologica che andrà a rappresentare la ricchezza e la fantasia dei temi e dei soggetti indagati dall'artista Lombardo. Le esposizioni saranno a ingresso gratuito. In entrambi i casi sono delle personali che vanno ad abbracciare quello che è un percorso artistico dei due artisti. E poi il maestro Palladino sta anche lavorando a delle opere inedite, è una specie di work in progress per poter portare qualcosa di inedito. Quindi ci fa ancora più piacere questo discorso di collaborazione con lui. Longaretti invece porterà un messaggio e un'arte estremamente attuale. Sì, pur essendo stato un artista attivo dall'inizio degli anni 50 fino alla fine del Novecento, porta a questo tema dei migranti, quindi delle persone che vanno alla ricerca di un futuro migliore. Infatti il titolo della mostra a cura di Veragosti è Verso la speranza. Grazie.